Samattina a Palazzo dei Priori presentata Viterbo Ambiente, la società che andrà a interessarsi e occuparsi della gestione dei rifiuti, a partire naturalmente dalla raccolta differenziata. Ne parliamo con Carlo Noto Ladiega, amministratore delegato Gesenu. Sì, oggi è stato un giorno per noi importante perché dopo la firma del contratto avvenuta la settimana scorsa noi da lunedì iniziamo il nostro servizio a Viterbo. Intanto la soddisfazione perché Viterbo è una città chiamata da tutti, da noi in particolare perché fra Roma e Perugia la conosciamo bene. Il servizio cambierà, cambierà molto come è stato detto oggi in conferenza stampa, come però ho detto prima, voglio ripetere anche a chi ci ascolta, che ci vuole un po' di pazienza perché la trasformazione di un servizio come quello di igiene urbana non si fa in pochi giorni. Ci vogliono dei mesi, bisogna attrezzarsi, comprare le attrezzature, cambiarle, istruire gli operai e soprattutto bisogna anche cominciare a comunicare con la gente e spero che voi su questo ci darete una mano perché ne abbiamo tanto bisogno. Ecco, facciamo capire un attimo alle persone, in effetti, da lunedì per loro fattivamente, praticamente, cambierà qualcosa? No, non cambia assolutamente niente, devono mantenere fino a nuova comunicazione, le abitudini che avevo, gli orari che ci sono, tutto come prima, niente di nuovo. E quando invece le novità ci saranno, voi sarete un chieme a noi per poter comunicare ai cittadini le novità che faremo. Ecco, tra l'altro una cosa importante che voi avete sottolineato è stato il fatto che serve assolutamente la collaborazione dei cittadini. I cittadini sono i più grandi collaboratori del servizio di igiena urbana perché sono loro che iniziano a decidere che cosa è rifiuto e che cosa non è rifiuto. E quindi sono loro che determinano quello che accade dopo. Allora, se gli si dice che è tutto rifiuto, si comporta in un certo modo. Se già, e questo è semplice da capire, si dice no, la bottiglia di vetro si può recuperare e la puoi mettere lì, è un altro messaggio. Certo, se poi trovi il contenitore pieno è un messaggio negativo. Ecco, noi dovremmo fare in modo di lanciare dei messaggi molto chiari, molto comprensibili, e i cittadini però dovranno aiutarci moltissimo.